lasciate ogni speranza o voi che tirate il titolo del caro del giovane luca vasillic fa già capire tutto la scena è grottesca racconta il carrista qui ci troviamo nel vorticoso ottavo cerchio raccontato da dante ovvero quello delle malebolge è una lettura in chiave satirica del canto nel ventunesimo del dell'inferno di dante dove troviamo tutti i protagonisti appunto di questo canto che è uno dei più famosi dell'intero inferno troveremo i diavoli malebranche troveremo la pece bollente in abbondanza troveremo i barattieri che sono i protagonisti di questo canto solamente che questi barattieri insomma avranno dei volti noti e invece che scontare la loro pena come sarebbe giusto nel nell'inferno dantesco purtroppo daranno gate da pelare a a parecchie persone noi compresi un carro ricco di movimenti ed effetti particolari racconta poi vasillic che invita sia i cittadini che i turisti a partecipare alle prossime date in programma della manifestazione ovvero il 21 e 22 agosto e il 28 e 29 agosto ma nell'opera c'è anche un'altra caratteristica come buon canto 21 dell'inferno si rispetti non mancherà il finale di canto il famoso del culfe cetrombetta che apparirà a un certo punto e lo vedrete